Vi saluto dal Grest, dal posto dove i bambini adesso in questa settimana si divertiranno e proprio all'inizio di questo tempo di divertimento Gesù parla della possibilità di seguirlo. Guardate quante volte noi abbiamo seguito i nostri maestri, delle persone che erano vicine a noi, che ci hanno stimato e così anche Gesù. Lui ci dice tante cose, tante belle cose e solo a noi sta di seguirlo. Non è facile, non è una strada facile, ma sicuramente è una strada buona perché sempre ci porta verso il paradiso e anche oggi dobbiamo farlo, seguire Gesù. Come i bambini al Grest, come i bambini ad altri posti seguono i maestri, anche noi vogliamo seguire queste strade, queste persone così buone. Mettiamoci ad ascolto e mettiamoci alla possibilità di seguire le persone. Buona giornata!